E' bello Nokia qui è Mirkoli ed oggi siamo su Clash Royale Allora abbiamo un bel baulazzo magico da aprire come vi avevo promesso e due bauletti omaggini Allora prima di tutto però vorrei dirvi Ma è così niente Allora andiamo ad aprire i bauletti omaggio perchè sono più schifosi Così dicendo ora trovo la leggendaria ormai lo conosco del gioco No vabbè figurati se troviamo una leggendaria nel baule omaggino Allora apriamo il baule Il baule magico Oro Sgherri Ma sicuramente non c'è la leggenda Figurati se c'è in un baule magico Scheletri Ma sono comuni Ma perché raga E vabbè ce l'epico Ariete Razzo E ce l'epico No raga Io ve lo giuro Ma come fanno i youtuber a trovare sempre leggendarie Cioè i youtuber famosi Vabbè dai Lasciamo perdere Allora doniamo un po' Ora passiamo al baule da torneo con 0 vittorie No raga Non ci trovo niente Ok raga Allora Andiamo a fare una battaglia Che era da tanto ma tanto tempo Che non ne facevamo una Dai andiamo Così possiamo aprire anche il baule della corona No Non mi dire che mi ha selezionato il deck degli incantesimi Ma perché raga Manco l'ho toccato io quel deck Ah raga No Ho sprecato l'accoggiamento così Ma che schifo No ho sprecato anche la scale Vabbè raga abbiamo perso Ma perché mi ha selezionato il deck degli incantesimi No perché Allora per il prossimo sabato Dovete consigliarmi 5 Ma dico 5 deck Per Clash Royale Con il cimitero Da arena 6 barra 5 barra 4 Allora consigliatemelo su Instagram Trovate il link qua sotto in descrizione Oppure nei commenti Eeeh Ah me lo dimenticavo Consigliatemelo anche su Google Più se volete Vi lascio tutti e tre i link In descrizione Vabbè vi lascio Come al solito vi lascio anche il link del mio canale Anche se è inutile Però vabbè E quindi O nei commenti O su Instagram O su Google E più Vai Bello perdere però Quando ti ci abitui diventa carino perdere Anche se no Per voi no sicuramente È bruttissimo veder perdere Ci sono Tra poco arriveranno dei momenti epici Me lo sento su Clash Royale Ops Forse vi ho spoilerato già troppo Eh raga Forse vi ho spoilerato già troppo Ah vabbè Sappiate comunque che arriveranno delle cose Che manco vi aspettate E non è per forza una cosa positiva Ma in questo caso è una cosa positiva Quindi sto tranquilli Vai fulmine inutile Ah no si Non ti lascerò fare la Invece si Ma a parte gli scherzi Continuiamo Allora Scifo di batteria Dai per favore Cerca di capire Sto registrando Non puoi farmi fare sta figuraccia Scusate ho coperto il microfono Raga Stavo dicendo Dai carica batteria Non mi fai fare sta figuraccia Sto facendo un video Che io abbia un po' di buon senso E infatti lui Ma perché Si è troppo scrittato sto gioco Allora 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 Cambi Ecco Prima cosa questa Usiamo il deck che mi ha consigliato il mio papà Potenziamoci anche la veleno Già che ci siamo Raga Secondo spoiler del giorno In arrivo nuova serie Zitto Mirko Devi stare zitto Hai capito Scusa Scusa Evil Lion Evil Lion Ma perché Evil Lion Ah vabbè Non è Evil Lion Sono solo Uno scemo Io Evil Lion Comunque si dice Ah vabbè Dai Abbiamo iniziato già bene Abbiamo imparato Un bel principone Ora i scheletrini Fanno la torre No Mi piacerebbe Evil Mirko E dai Vuoi attaccare Ti mando un doma Un doma con l'orda Tra i due litigandi Il terzo gode E infatti Infatti guardate I scheletrini godono Tra i due litiganti Il terzo gode La torre centrale Non va giù Io penso Andasse giù Perché non muori Io ti voglio morto No Perché il principe Non è morto Oddio Ok Ho rischiato Siamo Un pelino In vantaggio Allora il baule Della corona Ce l'abbiamo già Comunque Tac Allora c'è Lo specchio Visto che l'ho messo Due volte Oppure Le Ci sono due possibilità O al server privato O allo specchio O c'ha Cosa? Niente O c'ha le hack Ah ah Volevate attaccare la torre Ma non potete L'arma segreta Che poi non fa un piffero In confronto A me Tac Evil lion Io ce l'ho proprio Con sto evil lion Muori 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 E volevi Attaccare Volevi Grossamente E ho vinto Ah bene La prima partita Vinta Ah Baule d'oro Buono Buono Io E il baule d'oro Abbiamo dei patti In sospeso Non è vero Apriamo il baule Della corona Mi sento Fortunato No non è vero Ah ok Io direi Di fare La terza E ultima Partita Del giorno Oddio Perché ho strillato Dai Madonna Viene un casino Andiamo senza pietà Attacchiamo senza pietà Raga Senza pietà Senza pietà Senza pietà Senza pietà Lave de bu Dai Scateniamoci Dobbiamo essere fuori Dai gangheri No Non ci credo Raga Per poco I scheletrini Facevano giù la torre Nel frattempo Anche lui ci fa fuori La torre Lui è un pelino In vantaggio Ma non mi Accontenterei tanto Non so cosa dire Allora E voleva Ammazzarmi Il domotore Voleva Grossamente Poi non so Se si può dire Grossamente Però vabbè Io lo dico Scialla Ah Sciallati Un attimo E Niente Ci vogliamo dare una mossa A attaccare Sciallati un attimo Mirko Sciallati un attimo Per favore Ma perché ho messo No vabbè Raga Perché Sono stato così scemo Da mettere la veleno Ma io non lo so Poi la sfera infuocata Là Che Che senso Ha raga Sono stato scemo Lo so Non dovevo attaccare La torre centrale Ho sprecato Solo l'isir Meno male Che era Stato Era sta Già attivata Era già stato attivata La torre centrale Per fortuna Sciallati Un attimo Devo già Pensare Come montare il video Volevo Voleva 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 lui Voleva lui Voleva lui Nooo Non sono riuscito A fare la figata Vai pazienza Sarà per un'altra volta Sciallati un attimo Ma si possono ghiacciare le bombe Su flash royale E non lo so Con la gelo Sciallati un attimo BAM L'ho figata Ho fatto la figata Raga Però ho perso No Ho pareggiato Che sto a dire Ok Meno male La figata L'abbiamo fatta Grandi Abbiamo perso Raga Non me ne ero accorto Che mi avevano fatto Anche l'altra torre Ma vaffan cucciolo Va Allora raga Scialliamoci un attimo Dunque Allora Ricordate di consigliarmi Su Instagram O Sui commenti Su Youtube Oppure ancora Su Google Più Un Deck Per la cimiteria Io valuterò Tutti i deck Se ce ne sono abbastanza Perché Non partecivate mai Ai contest che faccio Quindi Arriviamo 5 commenti Io Li selezionerò Li selezionerò E li porterò Nel video Della Top 5 Prossimo sabato Se non ce ne saranno Abbastanza Rimanderà ancora Fino quando non ce ne avremo Io vi saluto Ciao a tutti A tutti Basta copiare Surrealpower Raga Scusate Ormai Guardo Tanto Surrealpower Quindi io Proprio Mi sono Diventato Surrealpower Scherzavo Ciao No aspetta Com'era la mia Outro Ah ecco No aspetta Stavo per fare Quella dei mei Contro te Fatemi ci pensare Raga Non mi ricordo Neanche più La mia Outro Bene raga Per questo video Era tutto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga Ciao 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 Grazie a tutti.